Giorni di freddo in città, il sindaco Melucci ha chiesto ai servizi sociali e alla Polizia Municipale di far ripartire la centrale operativa sociale che si occupa dei senza fissa di mora. E così in queste sere siamo in giro per portare i pasti caldi coperte a queste persone che si trovano per strada oppure in stazione. E' bene ricordare che chi incontra un senza fissa di mora può segnalarlo alle forze dell'ordine o alla Polizia Municipale che attiveranno i nostri operatori del pronto intervento sociale e della centrale operativa sociale con le associazioni Abfo, Noi e Voi e Croce Rossa. Se vi capita di rivedere la persona nello stesso posto non pensiate che non ci sia stato un intervento da parte nostra. Alcuni di loro preferiscono rimanere lì e non essere accolti magari in un dormitorio della Caritas oppure presso il nostro alloggio sociale. Si tratta di vicissitudini personali che purtroppo non possiamo andare a scardinare e quindi comunque tutti riceveranno conforto e attenzione dai nostri volontari.